e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi breve video infrasettimanale dove andrò a spiegarvi come scaricare le tracce che sto appunto mettendo sul mio sito sono completamente gratuite e ragazzi vi chiedo solo una cosa iscrivetevi al canale perché ho deciso appunto di condividere quello che faccio gratuitamente le tracce gratuitamente però almeno un'iscrizione a voi non costa nulla ma a me fa molto piacere e da una mano a far crescere il canale quindi vi faccio vedere come appunto poter scaricare le tracce che creo e quindi andiamo direttamente sul mio sito ecco qua sito il motociclistasolitario.com qua siamo sulla home page che vi ricorda anche qua di iscrivervi e attualmente sto facendo sto caricando le tracce su sull'ultimo viaggio che ho fatto poi comunque penso che metterò una pagina dedicata a varie tracce che poi andrò a caricare mano a mano questa è diciamo la pagina con le tracce dell'ultimo viaggio che ho fatto tra i balcani romania slovenia e tutto quindi qua potete trovare le tracce che cercate di ogni singolo video avete avete qua il video in parte la traccia che corrisponde appunto al video quindi andatevi a vedere il video e vedete un po e poi se vi piace potete scaricarvi la traccia oppure scaricate la traccia e andate ad occhi chiusi a vedere comunque adesso vi faccio vedere l'ultima traccia che ho caricato quindi andate su sulla mappa qua qua sopra cliccate e vi comparirà la mappa vedete qua vi compare la mappa per poterla scaricare semplicissimo andate qua in parte sui tre puntini download map gpx track e fate ok qua potete scegliere file gpx tutti i vari tipi di file quindi quello che vi servirà meglio lo scaricate quindi io di solito scarico in gpx track e scaricate la vostra traccia rieccoci spero e penso che sia una cosa molto carina una condivisione gratuita appunto vi ricordo perché per sostenere questo progetto questa roba di potervi dare le tracce gratuitamente basta solo un iscrizione e un mi piace al video quindi spero di fare cosa cosa gradita a voi iscritti e non iscritti e se non sei iscritto iscriviti quindi grazie ancora e alla prossima ciao ciao